Torniamo a parlare, dopo la denuncia da parte dell'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus, della biblioteca regionale gestita dalle associazioni culturali della città di Penne. Dopo la pausa estiva, lunedì 2 settembre, sono ricominciate le attività con una novità importante perché dalla giornata di mercoledì sono iniziati i lavori per l'installazione dello scivolo che consentirà l'accesso ai disabili alla struttura di via Martiri Pennesi, dando la possibilità anche ai ragazzi più sfortunati di poter usufruire di questa struttura. Abbiamo condiviso le richieste dell'associazione e coinvolto i proprietari degli immobili affinché si potesse risolvere il problema, ha detto l'assessore all'urbanistica Giuseppina Tulli. Colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Sergiacomo per la sensibilità e disponibilità dimostrati verso questa problematica che riguarda tutti noi. La biblioteca è diventata un punto di riferimento per i nostri giovani e nei prossimi giorni sarà attivato un percorso scuola-lavoro con gli istituti secondari e questa è la novità principale, commenta l'assessore al bilancio Gilberto Petrucci. Siamo soddisfatti per la risposta che la città ha dato in questi primi mesi di gestione evitando la chiusura di una struttura molto importante per la comunità pennese e non solo.